dei tali, del protocollo tali, dei tali. Quando compare il decurus significa semplicemente che tu, non essendo in grado di amministrare in termini di razionalità o di buonsenso, amministri in termini di generalizzazioni incontrollabili. Per cui devi dire che quella è la legge però è del tale anno, del tale anno però c'è l'addentellato e dall'addentellato c'è la derivazione. È una roba pazzesca, pazzesca. È una roba non irrazionale, è indice di malattia mentale di una società e noi siamo tutti malati mentali. Perché? Perché ci prepariamo a scomparire come civiltà. Perché ci prepariamo a scomparire come civiltà? Perché ci siamo contraddistinti dal punto di vista dell'utile e non dal punto di vista culturale. Tutte, tutte le civiltà in decadenza ineluttabile, cioè definitiva, senza, superato un punto di nuovo ritorno, tutte, storicamente, basta fare una piccola analisi, sono state tutte contraddistinte prima di iniziare l'agonia definitiva. si sono asseragliate, probabilmente un'analisi approfondita, spiegherebbe anche perché, dietro un velo protettivo di burocrazia estremizzata. Ripeti il concetto della civiltà che sparisce. è un affetto storico, non è una roba... No, secondo me dopo ritaglio, mi serve che lo dici. Allora stai girando? Ah si? No, 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 no. No, ogni civiltà... Attenzione, io ti consaggo di cazzate. Eh, ma uso solo quelle che si possono usare, fidati a te. Ogni civiltà...